questa ivi 4 vedrà la luce a breve o è soltanto il solito sogno è un in effetti un bel sogno lo abbiamo un lato per tempo quello di un suv compatto vero fuoristrada secondo la tradizione dna suzuki ci hanno promesso che il matrimonio tra ivi 4 o come si chiamerà il modello di produzione e il mercato italiano verrà celebrato tra non molto diciamo un annetto abbondante probabilmente alla fine del 2014 o inizio del 2015 suzuki in effetti agli italiani è nota in particolare per i suv a livello mondiale è leader delle vetture compatte addirittura in giappone c'è un segmento speciale di vetture fiscalmente agevolate molto piccole molto compatte allora abbiamo realizzato un buon compromesso per chi vuole le quattro ruote motrici per chi vuole l'economicità la leggerezza e consumi bassi delle due ruote motrici il tutto su un corpo vettura dallo stile d'impatto sono vetture che uniscono praticità a grande spazio all'interno dove è disponibile nel nostro caso lo è la trazione integrale nel trazione integrale suzuki lanciamo con s cross la tecnologia all grip una novità assoluta e il tutto su un corpo vettura dall'aspetto imponente ma normalmente molto leggero come quello di s cross noi costruendo anche moto e motori marini siamo bravi o crediamo di esserlo nel realizzare anche veicoli molto leggeri e molto efficienti dal punto di vista dei consumi